Ciao ragazzi Mamma mia voglio non in mezzuno Stiamo proprio stressati Sì, stiamo stressati però non in mezzuno Sirup non ti nasce però predo No, no Ma che il Sirup è sostanzialmente per un denga proprio da sua Esagerare Non so che era silenzioso No Sirup non ha fatto perdere il Sirup sotto il coperto ma si fu un strunzo Ma lì sta scegliere Non c'è duro però Ma che si fai perdere il Sirup? Non so che era silenzioso Ma questo è tutto scemo Cagdi tu hai pensato? Non so che era silenzioso Ma l'animità è morta E come fai Ma questo è tutto scemo Ma ci sei Ma questo è tutto scemo Ma non lo sai Ma non c'è Vabbè ma poi hai fatto passicare Non c'è Ma non c'è No Ma hai fatto passicare Ma hai fatto passicare Sì no Nel 1900, non si è nato l'altro ieri nel 1906 nel 1906 è meglio come si chiama? Gessica 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 è un po' triste mi fa paura era brutto, Gessica non mi fa paura mi fa paura mi fa paura tu sai che sto senza trucchi è così comunque fai tutti questi guagliari niente ma fai fighi fighi che cosa c'è? mamma, mi ti scordi tu sei un uomo l'uomo ti fa fighi fighi l'uomo non fa fighi fighi non fa niente, l'uomo non fa fighi fighi tu ti andrà a fare fighi fighi ma fai fighi fighi e come si fa fighi fighi? 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 come si fa? come? spieghi con la bocca no con la bocca non si fa piacere ma fighi 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 come cosa cosa c'è? cosa mi piace? ok non mi chiede la riccosa ma queste cose mi piace la riccosa come intonete il rischio? E' il barco Sì, ma tu... Tu parli una buona carossi Sì, non mi piace perchè tu sei un amore di fatto Ma non ti preoccupi, tu sei come se ti chiede Tu ti andai a me spiegare E' facile? Carossi è fatto qualcosa? Ma non puoi scegliere Come? È privato Ma non è fatto qualcosa? Scusate che prima ti hai fatto qualcosa Sì, non mi hai fatto carossi Ma non è, come ti puoi spiegare In modo nostro In modo nostro Sì, che cazzo hai fatto con carossi? Allora, ma che sei? Allora, hai già fatto un bacio Hai fatto un bacio? Che cosa hai fatto un bacio? Sono così Sì, che lingua Che schifo, mamma mia Che cosa hai fatto? E poi Abbiamo fatto un rapporto Un rapporto con il giusto Un rapporto con il giusto Un rapporto con il giusto Un rapporto un po' sul sol E che resti? Ti hai toccato un piccolo? No, Sì No, Sì Sì No, Sì 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 Ma non ti hai fatto Sì Sì Ma Sì Ma non ti hai fatto Quei per prima parte Ti ho fatto Perché? Un po' che? Tu hai detto Viole No Non lo hai fatto Non lo hai fatto Che schifo Non so Ma pensavo che Non è regalo Non è regalo Ma perché lavarti i piedi Non mi lavare I stiali ahahah ahahah ma non mi riga Sero che scrivo con la mia sera ma si deve diventare a mezzo siete ma che rende vrei dei sapere siete ben perfetti chi è questo ben perfetto Sero ah, non è perfetto, ma è solo che fa le che vire pure a russi salto le che vire ovelli, scrivo Sero e palo duro, che non è non è libero non è libero devi valere passi, passi? passi mi? passi mi? passi, passi. no, infatti. passi, 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 passi. passi, passi, passi passi. passi, passi passi. ma non è una cosa che non si dice business non è inglese business come se stai a cercare mi stai a cercare la voce e mi sono detto che ci sono che sconosciuto e tu lo so? e non hai bisogno di più tutto un moppio non ti sa scegliere il lavoro come si non ho usato se fatevi i piedi lo esiste ma? no no io non ho fatto un giro mai sotto mai? no no ma poi a me non ho fatto a te la sicogna la sicogna non sai come è fatta la sicogna? no no la sicogna è quando due persone fanno i bimbo non fanno le cose tutte no? no si danno un abbraccio si abbracciano piccino o non si abbracciano? non si abbracciano perchè hanno paura di fuoco a bimbo o perchè si vede l'ascita un po' in zibra perciò perciò per me sapere perchè il russo quando viene il russo viene il russo il russo quando viene il russo viene il mosso questo è un detto antico mentre c'è tanto a me non capite cosa? e continuano a capire continuano a capire chi si e davanti di cose zatte non c'è tanto a me se avessi un bimbo schifo e invece ci siamo sempre a fare un discorso perchè come noi siamo sempre a fare sempre con una grande amore per ora sorare e non amare allora quando viene il russo se fa un altro a me vado a andare a me diceva ciò che fa che fate? allora questa giornata ho fatto schifo ragazzi, io ho bisogno di una ragazza per il ciruzzo, la rossa non è buona per il ciruzzo ragazzi ragazzi, mettete l'hashtag una ragazza per il ciruzzo aspetta però, l'hashtag una ragazza per il ciruzzo ragazzi sposatemi no, la voglio un po' sposata, è una po' grigione ragazzi, chi mi vuole, chi mi vuole, io faccio così faccio con i bici, sapete i bici di parlare qua? tale e quale, la voglio un po' così ci sono un po' così non c'è un po' così non c'è un po' così non c'è un po' così ma la rossa, non mi vuole, non mi vuole e non c'è un po' così ci sono un po' così ma la mamma, ti vediamo, non c'è un po' personale e non mi vuole che il papa mi mette una cosa che mi ha già colpito ti avessi qualcosa da fare, capa? scusa, tu hai un po' così no, ti vuoi colpire no, io come devo colpirlo? ehi, non c'è un po' così che sta venendo da me, io sono il maestro che posso fare infatti il papa mi ha detto che ti ha fatto desiderare si, ti ha fatto desiderare perché i sogni sono desideri e si desidera me di Napoli nico desideri Giazzecknuquazze hashtag Giazzecknuquazze Giazzecknuquazze però c'è un senso a che senso? senso pubblico metto un po' i saccans comunque ragazzi noi stiamo a dormire perché il nostro discorso notturno è finito quindi vi auguriamo una buona notte per a voi se state vedendo questo video di notte e di sera e vi diciamo buongiorno se vi è stato asciugando ma qui quindi quindi mi raccomando mettete un mi piace se la vostra spazio di corso e hashtag una ragazza per ceruzzo una ragazza per ceruzzo seguitici sui nostri profiti ecco Carmine Migliaccio Carolina Luca Rina Ceruz e poi e poi poi niente ragazzi andate a dormire mi raccomando ah ragazzi non vi dimenticate il basso così però si fa' schifo però non se quando non ci si ti si ti l'ha te ti asciugare se Grazie a tutti per aver guardato il video.